L'argomento premiante per voi oggi qual era? La fatturazione elettronica, in dubbio. Perché quali sono i nodi o i rupi da ancora da sciogliere per voi da un punto di vista preoperativo? Operativo in primis l'aggiornamento dei programmi che al momento i nostri evidentemente, da quello che vediamo anche nelle applicazioni, non sono al momento bisogna quindi... Laticamente anche alle tempistiche perché i tempi saranno molto stretti e quindi anche le procedure andranno snellite maggiormente. Ecco, se dovreste partire domani, cosa vi mancherebbe ancora? A noi quasi tutti. Questa è una bella domanda, sì. Ci abbiamo tante basi teoriche a questo punto e dobbiamo metterle in pratica. E il fatto di essere venuti questa mattina vi ha comunque dato un quadro più chiaro delle operazioni da fare? Sì, certo. Perché la cosa importante, come ho visto, è l'aspetto che dalla parte operativa, quindi la parte dei formulari, dei movimenti, i dati riescono ad arrivare prima possibile in maniera automatica a quelle che sono la parte di fatturazione. perché solo così è possibile, diciamo, ridurre i tempi e gestire il progetto della fatturazione elettronica e non subirlo. Prossimo passo, quindi, l'incontro in azienda. Prostima settimana. Prostima settimana. Prostima settimana. Prostima settimana, prossimo passo e non lo vengono a trovare. E' soltanto un parere sulla formula del workshop. Funziona il fatto di sarsi tutti da un tavolo? Sì. Dal punto di vista di approfondimento degli argomenti, i relatori sono stati abbastanza... Sì, certo. Sì, certo. Attenzione perché... No, bene, allora vi ringraziamo. Grazie a voi. A voi. A tre tanto. Grazie.